La flessibilità riguarda 360 gradi, paradossalmente si rischia di rallentare i termini quando c'è disallineamento per quanto riguarda risorse disponibili e spesa effettuata, rendicontata e quindi pagata, ed è un tema. La flessibilità sulla prevenzione è chiaro che diventa un aiuto in più. Che cosa significa? Velocizzare la spesa in prevenzione prima che l'evento drammatico coinvolga i territori. Però, ripeto, io non mi focalizzerei esclusivamente sui temi legati a calamità naturali. Io dico che è arrivato davvero il momento, dopo un giusto rigore attuato nei vari paesi d'Europa, oggi sicuramente con una diversa sensibilità per una flessibilità mirata darebbe sicuramente slancio a un'economia che stenta a ripartire.